l'autosquadra giochi per la piscina bambini questa mattina andiamo da mimì oh sta ancora dormendo ha una sveglia accanto a lei forse suonerà sì sono le otto in punto buongiorno mimì è ora di alzarsi armadietto cosa c'è lì dentro? qualcuno che sorride no che cos'è? una stella marina un giocattolo di gomma per giocare nell'acqua e allora andiamo a cercare una piscina dove troviamo una piscina? scopriamola con il puzzle una strada in mezzo agli alberi un fiume guardate c'è Max e davanti a lui una bella piscina ma è vuota per fortuna c'è un innaffiatoio pieno di acqua riempiamo la vasca eccomi mi la stella marina quella vera vive sul fondo del mare e così anche la nostra stella giocattolo va sul fondo della piscina chi altro vive sul fondo marino? vediamolo con il gioco delle carte un granchio dove sarà l'altro? non qui eccolo un pesciolino rosso una balena anche questa trovato un delfino pesce martello pesce martello delfino un pesce martello no lo abbiamo appena visto in basso sì una razza sappiamo dov'è giusto è lei restano le due balene eccole qui qualcuno ha dormito fino a tardi sì è proprio lui il pick up Bo buongiorno ehi giochiamo insieme con Bo cerchiamo i giochi d'acqua nella vasca di palline una balena giocattolo una balena giocattolo prendiamola una razza ottima ma l'anguria non è un pesce non serve il pesce martello è perfetto anche questo delfino è un simpatico pesce giocattolo guardate il pesce palla bambini giochiamoci il camion dei pompieri è un altro gioco via il granchio si simpaticissimo prendiamolo il pesciolino rosso non può mancare andiamo alla piscina ciao amici ecco i giochi d'acqua lanci i giocattoli in acqua lanci i giocattoli in acqua pesce rosso granchio razza pesce martello pesce martello pesce palla pesce palla balena delfino cos'è questo bambini? una paperella di gomma pesce lei nuota in superficie e ha due sorelline pensiamo tutti la stessa cosa? gli anatroco di giocattolo sono perfetti per la piscina portiamoli con noi che meraviglia una piscina piena di giocattoli buon divertimento bambini a presto con l'autosquadra l'autosquadra luogno